Quando la pandemia si è diffusa in Russia, Ristofo Zemlianica ha deciso di ingaggiare battaglia. Due settimane fa ha iniziato a lavorare in uno degli ospedali Covid-19 di Mosca come infermiere nel reparto di terapia intensiva. Sette persone sono morte durante questo periodo nel nostro reparto. Mi preoccupo soprattutto per una donna. All'inizio pensavo che fosse molto anziana, ho guardato i documenti, ha solo 50 anni. Tutti erano sicuri che si sarebbe ripresa e all'improvviso è caduta di nuovo in coma, in condizioni critiche in questo momento. La Russia è diventata il secondo paese più infetto al mondo, ma nonostante i numeri non siano migliorati, Vladimir Putin ha iniziato ad allentare le misure di blocco. Il lockdown, durato sei settimane, si è concluso il 12 maggio. L'allentamento delle misure restrittive è stato delegato alle autorità regionali. Putin ha affidato loro la responsabilità di decidere come e quando le norme di contenimento possono essere revocate. I pazienti arrivano negli ospedali di Mosca a qualsiasi ora. L'isolamento nell'epicentro della pandemia continua. Mosca è ancora a grave rischio, ha detto il sindaco. Il blocco di Mosca è stato prorogato dal primo cittadino almeno fino alla fine di maggio. Ora è obbligatorio indossare maschere e guanti nei luoghi pubblici. Andrei Kondrashov si è offerto volontario per lavorare in una delle cliniche private di Mosca, trasformata in un ospedale Covid-19. Non vede la luce alla fine del tunnel. Ci sono ancora molti pazienti, non meno di prima. Molti medici si ammalano, non solo qui, in generale a livello globale. Alcuni di loro addirittura muoiono. Il sindaco di Mosca, Sergei Sobianin, ha dichiarato che il tasso di mortalità del coronavirus nella capitale sarebbe significativamente più alto a maggio rispetto ad aprile.